Un buon pastore si avvicina agli scartati, è capace di commuoversi e non si vergogna di toccare la carne ferita. Chi segue la strada del clericalismo invece si avvicina sempre o al potere di turno o ai soldi. Papa Francesco lo ha ribadito con forza nell'omelia della messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando l'episodio evangelico della guarigione della donna curva, narrato da Luca e inserito nella liturgia. In sinagoga di sabato Gesù incontra una donna che non riusciva ad essere dritta e l'evangelista usa cinque verbi per descrivere cosa fa Gesù. La vide, la chiamò, le disse, impose le mani su di lei e la guarì. Cinque verbi di vicinanza, ha sottolineato Francesco, perché un buon pastore è vicino sempre. Invece i chierici, dottori della legge, farisei, sadducei, gli illustri vivevano separati dal popolo ed improverandolo continuamente. Gesù è vicino e la sua vicinanza viene da quello che Gesù sente nel cuore e si commuove. E per questo Gesù sempre era lì con la gente scartata di quel gruppetto clericale, no? C'erano lì i poveri, gli ammalati, i peccatori, i lebrosi, ma erano tutti lì. Perché Gesù aveva questa capacità di commuoversi davanti alla malattia. Era un buon pastore. un buon pastore si avvicina e ha capacità di commuoversi. E io dirò il terzo tratto di un buon pastore è non vergognarsi della carne. Toccare la carne ferita. come ha fatto Gesù con questa donna. Tocco, imposse le mani. Tocco i lebrosi. Tocco i peccatori. 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 Tocco i pe